Ho cominciato a fare uso di avena perché mi hanno detto che dà tonicità. Vero o falso? Vero. Appartiene l'avena a uno di quei prodotti che nel nostro tipo di cultura enogastronomica, nel nostro modo di mangiare, è poco diffuso o ancora sta crescendo. Mentre ci sono paesi come ad esempio quelli anglosassoni, dove è veramente di casa, la colazione è fatta con tanta avena o durante anche la giornata vengono gustati, preparati, dei preparati con dell'avena all'interno, con l'aggiunta di latte, di altri prodotti. Tutto questo perché l'avena rappresenta un vero tesoro di sostanze positive per il nostro organismo, sia dal punto di vista delle proteine, degli zuccheri che contiene. Quindi averne un consumo in alcuni casi leggermente superiore all'amide ci porterebbe ad un vantaggio di tonicità, ovvero se è di tono muscolare, un muscolo sicuramente più forte dal punto di vista proteico e questo potremmo averlo. Dobbiamo superare la problematica sensoriale. Naturalmente per chi non è abituato l'avena non è un prodotto di facile consumo, ma oggi giorno, considerando che la parte salutistica degli alimenti sta avendo sempre di più sopravvento, il numero di consumatori che ha scelto di in qualche maniera utilizzare l'avena e di fare colazione con l'avena sta aumentando. Può essere un'ottima soluzione per poter sostituire la mattina invece dei prodotti ipertrasformati che contengono dei semplici carboidrati che ci danno una botta di energia di zuccheri semplici in maniera molto rapida, ma non danno chiaramente un vantaggio sul lungo tempo. Nel caso dell'avena noi riusciamo ad avere energia, riusciamo ad avere proteine e ne guadagniamo tonicità muscolare che ci può servire durante tutto il corso anche della nostra giornata. Non c'è alcuna differenza tra grano turco e grano saraceno? Vero o falso? Falso. La parola grano che è presente in ambe e due i tipi di alimenti, grano turco e grano saraceno, può indurre ad un errore di comprensione da parte dei consumatori, pensando che siano più o meno la stessa cosa. In effetti sono completamente diversi fra di loro. Il grano saraceno addirittura non è un cereale. Vale la pena qua di ricordare che il termine cereale non esiste dal punto di vista botanico, ma è un termine commerciale. All'interno dei cereali rientrano anche piante lontanissime parenti fra di loro e ultimamente rientra addirittura la quinoa, che tutto è furché un cereale. Dall'altra parte abbiamo invece il grano turco, chiamato anche mais. Il grano turco è un prodotto che nel nostro tipo di alimentazione è molto più diffuso rispetto a quanto pensiamo, è originario di alcune aree, soprattutto americane, centroamericane e anche sudamericane. È stato introdotto poi pian piano ed è praticamente la fonte di moltissimi piatti, anche molto interessanti, molto importanti, come ad esempio in questo caso la polenta. I due prodotti sono fra di loro diversi, danno vantaggi completamente diversi fra di loro, ma nel caso del grano turco ad esempio ne abbiamo una quantità enorme di carotenoidi, una quantità enorme di antiossidanti. Molto spesso le persone pensano che il grano turco sia semplicemente giallo. Esiste anche del mais colorato in viola, del mais molto più scuro. Ci sono chiaramente diverse variate di mais con diverse sostanze che corrispondono a diverse famiglie di prodotti o comunque di sostanze benefiche per la nostra salute. Nel caso del grano saraceno, che va molto di moda perché ha delle proprietà salutistiche altrettanto importanti, parliamo di un prodotto che è adatto per la nostra alimentazione, ma non è paragonabile al grano turco, da cui differisce anche la propria famiglia come famiglia botanica.